Il prossimo, sai chi è il prossimo? È Daniele Martinelli Con Samantha Innocenti Con Samantha pure? Eh sì Ah beh, allora È una bella coppia di nome e di fatto E che coppia, ma anche nella vita? Sì E queste cose non me le dite? Eh adesso te lo dico, te lo dito Daniele e Samantha, applauso per loro Grande, grandi ballerini di salsa Qual è Daniele e qual è Samantha? Madonna Allora, ah, salsate stasera? Sì, sì Bene, allora, caraibici, latinoamericani, cubani, tutto Al fine salsate, bene, 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 bene A distanza si parte, vedi? Si, sì Si parte così a distanza Partiamo con la musica Aspetta, eh, fermi, fermi che c'è il nostro Ecco Il corso del sito è stato venuto per il tuo amore Prende la sua vita, si desidera che non sia E solo con i suoi figli non è completo Prende la sua vita, per se che il tuo amore Mira che immaginazione Prende la sua vita, per se che il tuo amore Prende la sua vita, per se che il tuo amore Prende la sua vita, per se che il tuo amore Prende la sua vita, per se che il tuo amore Prende la sua vita, per se che il tuo amore Prende la sua vita, per se che il tuo amore Bravi!